e stavolta decideremo chi aiutare tra acqua e ven ah no proprio vanno direttamente forse eh si qua sta andando diretto non ci sono io stupido bambino beh non sei così stupido in realtà ti porto a casa stronzo manca un po' bello che lui se la ride pezzo di merda te la posso dispensare un po' io di oscurità shame on you sono mega incazzata sappilo vengeance oh e usiamo acqua firaga tundaga e blizzaga ok aspetta tundaga blizzaga sulla x brama magica brama magica dove sei? non li vedo bello sto attacco ci sta tantissimo però c'è un po' che bello che siamo io contro contro terra e ventus contro vanitas questa parte è stata bella e adesso arriva sora una cosa che mi è sempre un po' dispiaciuta è che alla fine acqua perde il suo kiblet e prende quello di eracus ok però non mi è mai piaciuto tanto quel kiblet su di lei diciamo acqua van eccomi qua con l'ultima weapon io e loro con i kiblet merdini dell'inizio stavolta devo decidere con chi combattere o devo giocare con sora giochiamo con sora no ok possiamo continuare con con acqua allora merda dov'è terra? bravo sora oh ma tutti su di me siete? aspetta ventus mi devo occupare prima di questo e io uso questo tu usi il tuo attacco speciale e io uso il mio te becca in porta a casa vai ven vai su ventus e su ventus e su vanitas scusate mi sono un attimo zittito perchè ero concentrato merda ecco fatto con una scivolata finale è stato bellissimo uscita dritto nel cuoricino però è un peccato che aggiungono solo poco a quello che è perchè alla fine stiamo veramente rifacendo tutto quello che era successo è un peccato merda forza dai vieni qua merda forse è meglio muoversi piuttosto che pararlo vai colpisci vai colpisci allora il bello e il bello si che si torta il bello è che sto attacco anche se non abbiamo punti magia lo possiamo fare tranquillamente e comunque hanno dato un senso al pezzo di storia Uccidendo prima terra lo fai solo svenire Bellissimo Ucciderli con la magia è poco soddisfacente Ma molto divertente Ah sono morto E ora Sora guarda in faccia la realtà E' bello che queste scene comunque smorzano totalmente il senso del combattimento Cioè se terra fosse stata ancora vivo Qua non si sarebbe sfermato solo perché Vanitas sta parlando E tu sei il pezzo che Ventus necessaria per essere soli E questo ha molto senso Questa cosa ha talmente tanto senso che ha ragione We are not brothers I am darkness E questo è bellissimo comunque Questa è una cosa bellissima No just darkness Questo discorso non è un senso logico Vieni dalla parte della luce Ma io sono oscurità Luce, oscurità Ok Va bene così Lo accetto Lascialo andare Lascialo andare Va bene così Non discutiamone mai più Sora Va bene così Ok D'accordo Ciao E Vanitas se ne andò Fine Basta Così Disperso nel vento Ciao Ma perché stai sospirando L'abbiamo ammazzato prima Che poi perché ha aspettato questo momento Perché tecnicamente Se no poi abbiamo terra dalla nostra parte anche Questa cosa ha delle catene oscure Carina Ma un po' Cioè nel senso È lì Perché Come Quando Però è figo Sembra un po' l'abilità di Kushina e Naruto Tu devi combattere la scurità Ah 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 Figo Anche sta frase Ah 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 Così Farewell No Terra 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 I kept my promise Clink Clink Che poi non ha senso sto Sto modo di morire Perché Perché dovrebbero morire solo cadendo dall'alto Cioè noi vogliamo Ci buttiamo giù dai palazzi E rimaniamo in piedi E non ci succede nulla Cioè manco dici che li sta trascinando lui con le catene Comunque questa cosa è fighissima Che è l'oscurità a ribellarsi Che è l'oscurità a ribellarsi Risolverò tutto Risolverò tutto Risolverò tutto Risolverò tutto Che poi ha molto senso il fatto che l'Heartless non abbia effettivamente un cuore visibile Cioè nel senso non è coperto perché lì alla fine è proprio fatto per uscire Comunque dai, tutta questa luce manco fosse Dio Attenzione Una scena diversa finalmente Stiamo cadendo nell'oscurità in pratica Questa è l'oscurità in cui stava a terra Ok Ah quindi noi eravamo in contatto con terra tramite l'Heartless Tecnicamente Eccolo qua L'oscurità che è più Che tu hai riportato alla luce Alla fine vi siete protetti a vicenda in pratica Acqua Ben Bella Bella come scena però nel senso Cioè Mi sembra proprio Te abbiamo liberato terra E vai finalmente Però Avrei voluto molto di più per terra Cioè dopo questo pezzo che è importantissimo il fatto che liberiamo terra Terra ha veramente poco spazio e mi dispiace Vostro figlio Ciao papà Ciao papà Oh che bella Sta scena è una delle più belle Comunque con loro che piangono e tutto il resto Però c'è Povero terra Poco spazio Poco screen time Tanto Che cazzo hai fatto fino ad ora Fatto niente E invece Dove cazzo vuoi andare Che neanche ti reggi in piedi Sarebbe stato interessante Vedere Ventus Combatte con Roxas Però Sora Go Sì tanto Sto facendo tutto io Voi Eh mi devo riposare Vado a fare questo Vado a fare quello Vado a seguire Xem Vado a seguire Ansem Però nel concreto Rimango io da solo a fare tutto Bastardi Va bene Sora È il momento di muoverci Qui una cesta è già aperta Questo vuol dire che di là Quella cesta L'avevo persa allora Dovrei rientrare in quel mondo lì A controllarle le ceste Visto che devo ancora prendere Il trofeo di cerca Tutti i forzieri E quindi Ah ok pensavo si stessero Guardando loro due Della serie Ma quindi Madonna mia Axel però Dai Inevitabile Inevitabile And this Guest Of ours Has An old Score To settle With you Ah si You Are a traitor Of darkness As it is Of light Uuuu Wow Bella sta frase Ma donna Quanto siete tutti Merda Ma donna Quanto siete tutti Stronzi Experiments Performed By young Xehanort It was erased From all memories And It harbors Absolute No knowledge Of who it really is Ah quindi Merda Questa è importante Comunque E questo è vero Cioè Senza sapere un motivo O l'altro Ha senso Che lei sia lì Si è fatti C'è il coglione Axel In pratica Gli ha detto Per avere i cuori I cuoricini Ne ho già fatti fuori cinque Forse anche di più Qualcosa Qualcosa Ecco guarda Si è attivato Qualcosa Si è attivato A me dispiace tantissimo Per Axel In questa parte Però A me piace il fatto Che Axel Possa ancora usare Tutte e due le armi Sia i Chakram Sia il Keyblade E' il Keyblade E' il Roxxus E' proprio come Soros E' sei E' sei tu Roxxus? Roxxus? Roxxus No Non è Roxxus Collone Bello Dai che piano piano Qualcosa E' partito Lo scontro tra ragazze E guarda che Lei lo vede Lei più o meno Vede che L'aspetto è simile Al suo Ti prego Dimmi che posso Combattere Con uno dei due Cioè nel senso Posso sceglierli Entrambi Ti prego Fammi scegliere Con chi posso Combattere Dammi sta No E dai Qua è una cosa Che ci sarebbe Stato bene Roxxus Sì Roxxus Sor che dice Ma Quello è il mio Keyblade La cosa Figa è che qua Ad usarlo E' proprio Xion L'arma Di Sykes E' proprio Ok, questa la teniamo da parte per dopo. Eh, che cazzo. Vabbè, Kai è ricaduta, noi che cercavamo di rianimarla, benissimo. Che poi, una cosa che non ho mai capito, l'arma di Sykes cos'è nel concreto? È una cosa che non ho mai capito bene. Non sei mai stato il mio superiore. Sì, in realtà è stato uno degli ultimi a lasciare la scanchiera. E questo rompe la quarta parete, comunque, questa scena. Questa scena è veramente quanta parete distrutta, però mi dispiace tantissimo. Perché qua veramente, proprio, povero Axel, questa è una scena memata tantissimo. È questo uno scherzo. Pio, più, più. Poveraccio qua. Ma poi qua la scena è talmente stupida perché sore e cari sono ancora seduti per terra. E qua a salvare la situazione è Xion alla fine, cioè. Bello. Però c'è una cosa che non ho mai compreso appieno. Chi sei? Gli occhi di Xion. Qua non si vedono. Ma tecnicamente dovrebbero essere gialli. Cling. Non fai questo. Sembra una pubblicità contro la droga. Non drogarti. Non farlo. Ho appena capito tutto il perché... Perché lui piange e tutto il resto. Perché lui già lo sa il nome, ma non se lo ricordava. A parte per i ricordi di Roxas. A parte per quello. Ma anche per il fatto che lui la incontra nel Dream Drop Distance. Eccoli qua i ricordi e le pagine che vanno. Guardali, guardali che stanno riapparendo. Non scomparsi, solo soppiti. Eccoli qua. Brividi, brividi. Finalmente una scena che mi sta dando qualcosa. E qua, tecnicamente, gli occhi da gialli dovrebbero ritornare azzurri. Anche questa scena mi è matta tantissimo. Eccoli qua. Tutti i ricordi. Sempre con l'aggioraser, lui. Beh, mica me l'hai distrutto. Loser. E via. Qua Roxas va. Parte. Che fine ha fatto? Ah, scusami. Ma perché è scomparsa l'immagine di Xion? Ma lasciagliela lì, scusa. Sai cos'è che penso? Penso che tutto questo... Vabbè, ve lo dico dopo, dai. Ho bisogno di tua scuola. Tutto sto contenuto è una giustificazione per riempire determinati buchi e aggiungere pezzi. Però... Ho un'idea. Porca troia. Ok. Cioè, mi piace che stanno veramente aggiungendo i come e i perché. Però, dannazione. Non 30 euro. Porca puttana. Non 30 euro per questo. Io capisco che veramente tu puoi giocare Kingdom Hearts 3 senza vedere questa parte. Però questa parte è importante per giocare Melody. Lo capisco. Però, dannazione. 30 euro. È quello che mi... Che mi ha urtato fin dall'inizio. Roxas? Non può essere. Non può essere. Questo è impossibile. O dove hai avuto un vasso? Con la stessa di te. Con la stessa di come? La maggior parte della regione di membri. Ci sono passati da qui dal passato come le nostre. E hai replicas preparati e aspettanti. Una per tutti. Chi ti ha detto? Mi raccomando a molti. Alcuni di questi che tu conosci. Vexion. 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 E altri anche. Si sembra che non sei così bene a vincere le nostre le nostre, come pensi. Ah, vedo. C'è una ultima cosa che ho bisogno, per me essere sempre. Una connessione. Sora mi aiuta a me trovare il mio camino qui. Per i miei amici. Bello. Roxas. Finalmente siete due persone diverse, dai. Eh? Questa scena? E questo? Questa scena cosa? Cos'è? Questa scena cosa? Cos'è? Cos'è? cosa che ci si intiograva? Oh, abbiamo bisogno. Cos'è? Questa scena cosa sta a meingare in questo mondo. L'ultimo key. Cliccino. Potrei vostra aiutare la risposta. SHi, ho un'idea. Espere un'idea. Es ascoltare il mio signal. Ok Questa scena invece Scusa No Ho visto una roba strana Bellissimo Mamma mia Con Xemnas non sa bozza Manco per niente Oh però Kairi dai Ci dà eh Ci mena Per aver intratto ad usare il Keyblade ieri Ecco come non detto dai Basta Ah ecco il motivo per cui noi non possiamo combattere ora Questa scena l'avevo vista già in un trailer Questa scena l'avevo vista e mi chiedevo Com'è possibile che noi non combattiamo Sora intendo E comunque il Keyblade non è scomparso Mi dispiace Bellissimo Con Sora con tutti e due Keyblade in mano Porca puttana Allora Idroga Gran pozione ed energia Ok Ma perché nessuno vola? Ho capito il contrattacco cosa vuol dire Non vedo Bello Oh Dio mio io vi amo tutti quanti Bellissimo Mi strappa un pezzo di cuore Tutta sta scena veramente Mi strappa un pezzo di cuore Veramente dal petto Me la butta fuori Oh Dio mio Che roba incredibile Oh guarda il legame Se vabbè dai E lui è rimasto lì fermo Immobile a fare niente La loro esistenza Si sono ripresi La X Quello che non avevano più ormai Quello che non avevano più ormai Si Si E' la parte del vostro nome La X La X Proprio quelle E' bello che Sora e Kari Li buttati per terra Lui li fermo Per essere te stesso Mamma mia C'è il cuore che è E' tutto Tutto battitoso Tun 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 Ora ci sono in campo Sei Keyblade E questa scena però Quanto mi fa incazzare Tutto quanto però Quanto mi fa incazzare Sta scena Veramente Ma non per cose Ma per Porca troia Cioè veramente E io combatterò Al posto di Kari Comunque i capelli Sono meno neri Cioè sono quasi Castano scuro qua E spero sia la luce Ma in realtà I capelli di Xion Sono neri E guarda Sembrano castani scuro Sta canzone poi Porca troia Merda Merda Ah già Roxos non vola Devo ricordarmelo Questo Merda Ok Grazie Grazie finalmente A me piace Lo scatto di Roxos Perché è molto più veloce E ne fa due di seguito Scusate se non sto parlando Ma sono veramente concentrato Sulla scena Sulla scena Rai Sulla scena Baza Sulla scena Noostante Sulla scena Scusate se non ho parlato in questa parte Ma ero talmente preso dal combattimento di Roxas Che veramente E perché è difficile usarli sti personaggi Che veramente li usi per la prima volta E dici Cazzo È tutto così diverso Non fa il glide Non c'è le magie nel posto che dici tu E piange La cosa bella è che Isa non ce l'ha la X in fronte Quando è una persona reale E tutto questo ancora si deve capire chi è questa ragazzina Almeno che i Melody non l'abbiano detto Però è dubbito I colori dei capelli sono tutti un po' sbagliati in questo gioco Nel trap Il rosso di Axel è meno acceso Il blu di Isa è più blu E i capelli di Xion sono meno neri Guarda sembrano castani Gli Bello E niente Un'altra oscurità se ne andò Che poi in tutto ciò effettivamente non ha importanza Chi delle due fazioni scompaia Basta che l'essenza finisca in Kingdom Hearts Sì E loro rimangono da soli a ricordare Quanto sono amici e quanto si vogliono bene Quanto è bella sta scena Con la musica di Xion No, devo resistere Oh no Devo resistere Non devo Non devo Xion No Eh, Topolino e Riku Eh, prima che lei venga colpita Sora, tecnicamente Devi riuscire a raggiungere È già notte Ma non è vero Tecnicamente Dovresti raggiungerla prima che Che venga colpita O nel momento esatto in cui viene colpita Ciao a tutti Grazie a tutti.